Nessuno che segue la lezione, tutti che parlano. Sono stanca di insegnare in questa classe. Innanzitutto si calmi, perché qua non stava parlando assolutamente nessuno. Chiudi quella bocca Giulia! Ma chi pensa che siamo per essere trattati in questo modo? Posso cancellare la lavagna? No. Perché lo chiedi se la sta già cancellando? Posso andare in bagno? Quando torna il tuo compagno. Scusi ma cosa pensa? Che noi andiamo insieme in bagno? Ma è sempre normale che io non posso andare in bagno quando c'ho un mio compagno in bagno. Sono pure in bagni diversi. Sai cosa le dico? Lo faccio qua sotto. Non me ne frega niente. Marmi di Terrano qua sotto lo vedrai. Sì sì. Silenzio per favore. Non starò zitta finché non mi manda fuori dalla classe. Bene, fuori dalla classe. Meno male, tanto mi stavo annoiando della sua lezione. E vai dalla preside. Sicuro, guarda come ci vado correndo.